Buongiorno, mi chiamo Stefania Tagliabue, sono una ricercatrice di psicologia ambientale dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo a cui ho partecipato si intitola Implementazione e Analisi Sociologico-Organizzativa e Manageriale dei progetti di Smart Manufacturing. Il mio tutor accademico è stato Giovanni Vaia, un professore del Dipartimento di Management e le aziende a cui hanno preso parte al progetto sono state Stevanato, Saffiro, Moncler e Sipa.